Io mi chiamo Deborah, sono un agile coach, gestisco insieme a Cassandra e ad altri colleghi una community, una community dedicata all'agile o agile, fuori però completamente dal mondo dell'IT. Prima di iniziare a raccontarvi questa storia che comincia nel 2017, vi faccio una domanda. Chi di voi conosce e mette in pratica agile o con delle metodologie o con delle best practice, eccetera? Quanti nel mondo del software? Luca, nerd, non avevo molti dubbi. Quanti fuori invece dal mondo del software? Qualche mano l'avevo vista? Due? Ah, ok, uno, due, tre, cinque, sei. Bravi, bene, sono contenta perché significa che piano piano il mio grande sogno, che poi è diventato anche il sogno di Cassandra, di Carlo, di Fabio e di tanti altri, piano piano si sta realizzando. Che cosa vi racconto io oggi? Ho sbagliato? Ecco, vi voglio raccontare in realtà la storia di quello che è successo a noi, che come vi ho fatto la premessa, se avessi ascoltato prima i miei colleghi, probabilmente vi avrei raccontato qualcosa di diverso. vi voglio parlare di che cosa è successo a noi per darvi alla fine di questo speech qualche spunto su che cosa ti può capitare, come te ne puoi accorgere e quindi fare in modo che magari tu anticipi delle azioni. come vi dicevo è un sogno che nasce nel 2017, decido di uscire da una realtà aziendale in cui lavoravo, una realtà molto grande, che mi ha supportato anche in questo viaggio, in realtà, e decido di fondare un'azienda di formazione e comunicazione che si occupa specificatamente di questo tema, quindi di agile fuori dall'IT. Prima di fondare questa comunità di pratica trovo tutto il materiale che mi serve per realizzare, insomma, la parte formativa, per capire quali dinamiche portare sul mercato e così via, ma è una comunità in realtà fighissima, che trovo tra San Francisco e Monaco di Baviera. Quindi lì trovo un sacco di spunti, lavoro per un anno con dei community manager, lavoro con persone che portano questo tema all'interno delle loro realtà e quindi mi dico fantastico, in Italia ci sono solo io, è fatta. Comincio a parlare di questi temi, comincio a parlare di queste attività e però mi ritrovo da sola, quindi mi ritrovo così. Cioè tutto quello che io avevo in testa, in realtà, e mi viene in mente la slide di Manuel, quella del post-mortem, che quando l'ho vista ho detto sono io, mi ritrovo in realtà quasi come se io stessi parlando da sola. Parlando da sola perché? Perché io di quegli argomenti ero assolutamente innamorata, avevo gli occhi a cuore e anche qui non a caso avevo fatto sempre a Manuel la domanda, quando senti tuo un argomento e quanto sei appassionato, quanto conta? Ma adesso col senno di poi vi posso anche dire, sì, conta tanto, ma attenzione a non diventare troppo puristi, perché se l'impatto che vuoi ottenere, che poi è l'impatto che noi vogliamo ottenere con la nostra comunità di pratica è fare in modo che tutti i marketers, la nostra comunità è per i marketers, quindi qualunque sia il settore, dalla SEO alla digital strategy, all'organizzazione degli eventi, ma diciamo il perimetro è quello delle persone che si occupano di marketing. Quindi se tu sei troppo specifico o se non riesci, soprattutto se i temi sono nuovi, sono temi che ancora oggi pensiamo che il manifesto dell'agile nel software è del 2001, il manifesto del marketing invece l'abbiamo rivisto l'anno scorso con uno sprint dedicato, ero l'unica italiana che ha partecipato alla definizione del manifesto nel secondo sprint. Quindi è un argomento e un tema ancora molto giovane, se nel software ci ha messo 11 anni, 12 anni, 20 anni ad essere ben compreso e ben sviluppato, figuriamoci se voi magari avete anche un ambiente di nicchia. Quindi il rischio è stato proprio quello di ritrovarmi, in realtà parlavo con me stessa, diciamocelo fuori dai denti. Che cosa quindi abbiamo imparato? Abbiamo imparato che probabilmente, essendo ancora un po' ostica la materia, era bene costruire una community, sì, ma una community che fosse leggermente specifica, cioè che fosse una comunità di pratica. Abbiamo pensato che, certo, la parte teorica è importante, far vedere gli strumenti è importante, ma quando non conosco qualcosa, finché non ci metto le mani, nella testa non mi entra. Cioè io posso anche sapere come si mettono perfettamente gli scarponi da sci, come infilo gli attacchi degli sci e così via, ma se io non provo con un maestro ad andare a fare la sciata, è complicato che io riesca a fare una discesa. Allora abbiamo detto, probabilmente c'è bisogno che le persone comincino a praticare, quindi a mettere in pratica quello che realizziamo. Quindi la prima cosa che abbiamo pensato è, ok, usiamo la comunità di pratica come strumento di knowledge management. E se vi ricordate, proprio all'inizio, Marta aveva proprio usato questa parola. Quindi vedete che neanche a farlo opposta, le cose che ho sbagliato io prima, ve le erano raccontate giuste loro? E questo per me è stata una coincidenza bellissima mentre ascoltavo i colleghi. Quindi cominciamo, sbaglio sempre, cominciamo quindi a ragionare su questo tema e quindi che cos'è una comunità di pratica? Un gruppo di persone che si organizzano, hanno un particolare interesse su un certo tema, vogliono migliorare competenze, esperienze, mi vien da dire, e apprendere dalle reciproche esperienze. Quindi vogliono proprio provare. Questa è la definizione classica. Bene, ma a noi cosa è successo? È successo che la nicchia è talmente nuova che in realtà le persone hanno cominciato a chiederci di raccontare a loro come avremmo fatto noi. Quindi hanno cominciato a partecipare ad alcuni eventi, ad alcune attività. Noi utilizziamo Meetup, ad esempio, l'abbiamo sentito nominare anche prima da Marco, o all'interno, diciamo, dei canali Slack che abbiamo realizzato, ci chiedevano ma come si fa? Noi, mossi da tanto entusiasmo, abbiamo cominciato a raccontare come si faceva, perdendo in realtà un punto di vista importante, che era quello delle reciproche esperienze. Quindi mossi dalla volontà di essere di supporto e di voler essere il più possibile proattivi nel dare risposte, nel fargli vedere che si poteva fare, che se anche in azienda ti dicono no, non si riesce a fare, tu ce la puoi fare lo stesso, perché poi, soprattutto anche adesso, ci succede ancora che dicono ma da noi non si può fare, e allora cerchiamo un pochino di ampliare questa visione. Quello che è successo, scorro un attimo qui perché mi è più comodo, quello che era successo è stato questo, cioè noi in realtà volevamo una comunità di pratica all'inizio, perché era questo l'impatto che volevamo dare, in realtà accogliendo i feedback senza fare quel lavoro che sia Manuel ma anche Martina, Martina ha fatto molta attività di controllo dei feedback, di monitoraggio, di settorializzazione, probabilmente non l'abbiamo fatto bene e all'inizio noi non ci siamo ritrovati con una comunità di pratica, ci siamo ritrovati con un'academy. Quando Marta stamattina diceva il ruolo della community è diverso dal ruolo del pubblico, cioè una community non è un pubblico, noi abbiamo commesso proprio quell'errore di, perché le persone ci chiedevano informazioni, i nostri utenti ci chiedevano informazioni, ci chiedevano ieri è successa questa cosa, tu come l'avresti risolto, come si può fare, dimmi se ti è mai capitato una cosa del genere, noi dando le risposte e costruendo degli eventi mensili dove nel momento in cui abbiamo visto che costruire una Miro Board chiedendo agli utenti di posizionare i contenuti di cui volevano parlare, quella Miro Board era sempre vuota, siamo andati in frustrazione, poca ossitocina, quindi vedete ragazzi che è tutto collegato, pochissima ossitocina salta fuori che gli facevamo il corso sostanzialmente. Quindi di che cosa abbiamo tenuto conto? Ci abbiamo ragionato un po', abbiamo detto così non può funzionare dopo i primi mesi. Di che cosa abbiamo tenuto conto? Abbiamo tenuto conto del fatto che una comunità di pratica è fatta da tre entità, da tre macro aree, che sono il dominio applicativo, quindi l'area di interesse, la comunità, quindi le relazioni che tu crei con il tuo pubblico, le relazioni che tu crei tra i membri e quelle che i membri hanno tra di loro, e la pratica. Noi dobbiamo andare lì, verso la pratica, dobbiamo fare in modo, perché questo noi crediamo che sia il modo per avere davvero impatto all'interno di un'organizzazione aziendale, noi ci occupiamo principalmente di B2B, quindi lavoriamo con le aziende, se non raccontiamo storie, se non ispiriamo, e se non facciamo vedere che si può fare, ma diciamo a loro, trova tu la soluzione, quindi portiamo le nostre abilità di coach all'interno della community, sarà sempre molto complicato. Infatti, come vi dicevo prima, Academy Coop. La cosa interessante è che le persone in una comunità di pratica, si chiama proprio di pratica, perché le persone imparano a fare, e imparano a fare meglio, questa è la vera grande missione che noi abbiamo. Noi non abbiamo all'interno di questa comunità, che poi supporta il prodotto, ma è una comunità dove noi vogliamo che le persone mettano le mani in pasta. In realtà, dal racconto che vi ho fatto, all'inizio abbiamo preso una bella cantonata. Interagiscono e la leadership è diffusa. Questo è quello che ci ha, diciamo, aperto gli occhi, il famoso dolore che ti fa aprire gli occhi. Noi avevamo la leadership dei docenti, quindi persone riconosciute, persone autorevoli, persone in gamba. Dobbiamo arrivare, perché voglio essere assolutamente onesta, in questo racconto abbiamo ancora un bel po' di strada da fare, dobbiamo arrivare alla leadership diffusa. Quindi dobbiamo arrivare al punto in cui, a seconda degli argomenti, a seconda delle sensibilità delle persone, a seconda anche del carattere, la leadership, quindi la possibilità che qualcuno prenda le redini o di un argomento, o di una conversazione, o di una discussione, deve essere diffusa. E questo c'era anche scritto in un modo leggermente diverso, ma sempre nelle slide di Martina, di stamattina. Quindi cosa abbiamo fatto? E che cosa stiamo facendo tuttora? Perché è un percorso che stiamo continuando a fare. Identità. Abbiamo sentito anche prima altri colleghi che parlavano dell'identità della comunità nel restyling di Rock in Mille. Trattala come se fosse una persona. Cioè noi ci abbiamo riflettuto un po' e abbiamo detto ma noi la nostra comunità in realtà è un organismo fatto di persone. Se noi non trattiamo tutta la comunità come se fosse una persona, quindi non gli parliamo, non ci relazioniamo, non l'ascoltiamo, nella sua totalità, commettiamo un grande errore perché rischiamo di vedere questa comunità come una cosa un po' astratta. È come quando tu vivi all'interno di un'azienda e la chiami, vedi persone che quando sono ben ingaggiate e dicono il nome della loro azienda gli si illuminano gli occhi perché c'è una relazione, c'è una costruzione. Altre invece, quando parlano della loro azienda, la chiamano per nome e finisce lì. un po' come diceva anche Marco prima. Perché? Perché sono le persone della community che tracciano un po' la visione di quello che vuoi fare. Due, testa. Il tema del testing è stato affrontato tante volte oggi. Credo che sia la cosa più importante. Poi chiamiamolo test, chiamiamolo feedback più test, come diceva Martina, chiamiamoli dei piccoli qui-quien. Chiamateli come volete ma davvero non abbiate paura di testare. Questo, diciamo, ci siamo anche fatti aiutare molto dai valori e dai principi dell'agile marketing. Perché poi la cosa buffa è che noi per primi, ma questo ve lo voglio trasmettere proprio con tutta la la serenità del caso, noi per primi abbiamo commesso degli errori su cose che in realtà abbiamo anche un po' nel nostro DNA di come lavoriamo, di come facciamo le cose, ma perché eravamo troppo emotivamente coinvolti. A volte quello che consiglio ai community manager o a chi gestisce anche delle piccole comunità locali è prova qualche volta a fare lo sforzo di fare un passo indietro, di guardarla da lontano e vedere che cosa succede. È un esercizio all'inizio, io lo dico per me, Cassandra invece in questo è stata molto più brava perché mi ha proprio aiutato a fermarmi e a dire torniamo un attimo indietro, vediamo che cosa sta succedendo, guardiamola da fuori. Io invece mi ero proprio invasata, mi ero proprio entusiasmata, cioè per me era quella cosa lì. quindi le persone soprattutto nel test io avevo un po' il timore di dire sì però facciamo delle domande, gli chiediamo delle cose e se poi ci dicono delle cose diverse da quelle che avevamo pensato noi. Io davvero sono molto onesta in questo racconto perché credo che succeda sempre un po' a tutti quando hai il tuo bambino e dici caspita dovrebbe essere la cosa più bella del mondo e poi in realtà scopri che non è così e ci devi fare i conti. Se metti le persone davvero al centro dell'attenzione le persone rispondono, tant'è che alla nostra survey, sentivo prima Martina che diceva che ad una survey hanno risposto in 200 persone, noi non siamo arrivati a 200 ma ad alcune survey in effetti non ci aspettavamo una risposta così ampia e anche una voglia di sapere com'è andata che ci ha stupito molto. Cioè qualcuno ci ha proprio chiesto ma alla fine condividete i risultati perché è interessante vedere se magari io ho un'opinione diversa dagli altri eccetera, no? Quindi hanno cominciato a lavorare in questo modo. Semplicità, abbiamo easy, io ho messo keep it simple, Marco ho messo easy. Dobbiamo rendere semplice l'imparare e il confrontarsi. E sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto dei pezzi. Ah no, perché sicuramente avranno bisogno di entrare nel sito di fare login sicuramente avranno bisogno subito della pagina del profilo immediatamente se non c'è la pagina del profilo non funziona. Se poi non hanno il forum di discussione già diviso per tematiche figurati non lo useranno mai. via tutta quella roba lì. Via. Sapete cosa usiamo? Meetup e Slack. La piattaforma online l'abbiamo lasciata ma gli stiamo facendo fare il suo lavoro. Secondo voi cosa fa la piattaforma online? Il database degli articoli, le cose che scriviamo, bravissima, grazie Stella, e l'academy. Vuoi studiare online? Fare un primo pezzo, fai il login, c'è l'academy, guardi le cose. La community aveva bisogno di semplicità e la semplicità come l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata con Slack che è semplicissimo, lo conoscono tutti, ce l'hanno chiesto loro, stavolta siamo stati più bravi, abbiamo testato, abbiamo messo perché avevamo il dubbio ma Telegram, ma tutti e due, perché poi c'è quello che vuole... No, abbiamo chiesto a loro. Noi, ti ricordi Cassandra quando abbiamo detto sicuramente vorranno Telegram? No, vogliono Slack. Ok? Quindi, questa è un'altra cosa delle tue convinzioni, no? Quando hai le tue convinzioni pensi che sia importante quello che è importante anche per te. E... L'altra cosa interessante abbiamo reso diciamo facile imparare. perché? Perché all'inizio siccome noi venivamo da questa esperienza nelle comunità americane e di Monaco di Baviera cosa succedeva? Che in queste comunità addirittura fanno degli eventi delle attività online, si ritrovano magari per due ore alla sera a fare delle attività insieme, ognuno porta un problema e magari gli altri lo aiutano e così via. Quindi noi, siccome a noi piaceva quella roba lì, l'abbiamo riprogettata leggermente ma riproposta in quella modalità. Abbiamo preso una cantonata perché? Perché c'è una cultura profondamente diversa da noi. Cioè noi abbiamo provato a tentare di applicare la cultura lavorativa e di studio e formativa di paesi che con noi non c'entrano niente. Questo è un altro errore. Cioè pensare che siccome in altri contesti, in altri paesi funzionano in un certo modo, provare a portarla qui. Quindi in realtà abbiamo anche qui un tema di semplicità ridotto. Noi facevamo quattro ore di attività online al mese siamo arrivati al punto di farne una. Ce ne hanno chiesta una. E ci hanno chiesto invece i nostri utenti di fare o delle videopillole brevissime, ci hanno chiesto 5-10 minuti di videopillola più la parte invece di esercizi. Cioè preferiscono fare gli esercizi e poi fare la correzione insieme degli esercizi. Cosa che noi pensavamo invece per loro non avesse valore, avesse più valore vederci tutti insieme e discutere tutti insieme. Individuare i protagonisti. Eh sì, perché la community non vive solo di leadership del community manager o di alcuni utenti che i famosi super admin che ti danno una mano. Abbiamo parlato prima della leadership diffusa. Quindi la leadership diffusa ce l'hai quando sei riuscito a fare in modo che ci siano persone che vogliono raccontare la loro storia. E abbiamo scoperto che le persone hanno voglia di sentirsi riconosciuti perché sentirsi riconosciuti è un bisogno che abbiamo tutti noi. Ed essendo un bisogno se tu fai sei empatico no? Come diceva Marco prima tu sei empatico capisci che quella persona ha voglia di essere riconosciuto in quel particolare contesto magari non sempre. C'è qualcuno che vuole essere riconosciuto nel momento in cui magari si parla di un argomento che a lui sta a cuore poi per tutto il resto magari sparisce fa da ascoltatore perché vuole imparare perché vuole provare questo è un'altra delle cose che abbiamo imparato. Io termino qui ho voluto proprio raccontarvi non so se si è percepito spero di sì a cuore aperto un'esperienza vera perché al di là di tutto credo che anche le esperienze fallimentari come in realtà all'inizio nel 2017 è stata la nostra oggi su Meetup trovate 540 membri di questa comunità non sono assolutamente sincera come ha fatto vedere la Rock in 1000 prima in realtà alcuni di questi sono dei membri fantasma immagino che ognuno di noi nelle sue community abbia queste tipologie di membri ci sono quelli più attivi ci sono quelli che interagiscono di più di meno eccetera però ecco vi ho proprio voluto lasciare qualche messaggio su se vogliamo sintetizzare i 4 errori da non commettere li abbiamo già fatti noi voi non fateli grazie allora si sente? sì si sente c'è qualche domanda? tanto grazie Deborah ciao allora avevi detto hai iniziato raccontandoci questo parlavo da sola no? terrificante anche il tuo tono di voce raramente questo basso così poi il presente e qual è il futuro? il futuro è prendere quei 4 stiamo continuando a a iterare no? come dice l'agile fai dei piccoli esperimenti pianifica vedi cosa succede cambia fai un altro esperimento il futuro qual è? il futuro è riuscire questo è proprio il futuro eh riuscire ad avere all'interno delle aziende che stiamo aiutando all'interno di questo processo di trasformazione agile dei team di marketing avere una persona o più persone che riescano davvero ad avere un impatto all'interno del loro team senza che noi siamo lì con loro costantemente tutti i giorni cioè noi vogliamo che le persone diventino autonome nel trasformare il modo in cui oggi lavorano perché allora vuol dire che è lì che abbiamo fatto un buon lavoro quando le persone sono autonome quando le persone chiedono nella community poi escono e vanno a farlo fuori quello è il grande impatto perché finché lo fai soltanto all'interno della community o finché eh ascolti recepisci ma non agisci all'esterno almeno questo è quello che è l'ambizione che abbiamo noi l'ambizione di poter portare questo tema così nuovo non ancora sentito soprattutto nelle aziende in cui non c'è in atto magari o è molto lenta la trasformazione del modello organizzativo vi sembrerà strano qui vedo tantissimi ragazzi giovani magari a loro sembra un po' strano perché lavorano in ambienti più dinamici io magari ho anche esperienza di ambienti più statici gerarchici dove se ti muovi nel posto sbagliato è un casino quello che vorrei che succedesse con le persone che popolano questa comunità è portare fuori nel loro ambiente quello che imparano lì e rendere diciamo i posti di lavoro i team di marketing che di solito li vedi che lavorano di notte che cambiano le priorità ogni 30 secondi persone disperate che oddio la stampa delle brochure non funzionerà mai eccetera eccetera vederle un pochino più serene qualche altra domanda ciao io ho lavorato tantissimi anni nel marketing di un'azienda multinazionale di largo consumo birra quindi per me il marketing è proprio quello classico non riesco a immaginare una formula agile su un marketing così classico può esserci? assolutamente sì questa è la grande difficoltà che stiamo incontrando quando noi parliamo di agile marketing quello che tu mi dici per noi è la quotidianità cioè aziende come quella da cui provieni tu o altre di quel genere noi in particolare stiamo lavorando fortunatamente abbastanza bene nel mondo luxury and fashion o nel mondo industriale che invece ha bisogno di una spinta e di un cambio troviamo situazioni come la tua cioè il marketing manager il team di marketing non si immagina che si possa lavorare in un modo diverso da così e quindi quello che stiamo facendo noi è continua divulgazione prima perché prima devi continuare a dire le stesse cose fino a quando entrano nella testa delle persone e poi fargli vedere che si può con che cosa qual è il gancio la pratica perché se tu non lo pratichi e te lo racconti soltanto non lo vedi e non lo provi direi sempre bello tutto ma da noi non funziona che è la classica risposta che abbiamo quando c'è la prima interlocuzione ah bello però da noi non può funzionare ho colto sì ma io credo sia anche molto nella natura del prodotto nel senso che non so niente io già premetto quindi sei un nostro nuovo user perché da oggi sì ne approfitto no? da oggi sì no il tema è che per fare un prodotto industriale mass market il marketing ti porta a fare anche dei processi che parti dall'analisi di mercato lo sviluppo del prodotto c'è l'ufficio innovazione c'è comunque tutto però necessita poi di un processo produttivo lunghissimo magari da studiare anche col packaging e di messa a disposizione quindi dei canali di vendita che è estremamente lungo ed è purtroppo fatto di fasi quelle molto definite molto impossibile da saltarle immagino che agile arrivi da un processo di start up o di prodotti digitali dove invece è completamente diverso cioè la produzione non esiste cioè nel senso è programmazione questo è il grande misunderstanding brava hai proprio colto questo è il grande misunderstanding cioè tutti pensano che agile si possa fare solo se tu hai un prodotto digitale cito un'azienda dove c'è la marketing manager che all'inizio era una cliente poi adesso è diventata una carissima amica si occupa di produzione industriale basata a Padova Bretton SPA che fa anche degli speech e ha fatto degli speech qua in Talent Garden siamo riusciti in un'azienda industriale che fa macchinari per la lavorazione della pietra dura quindi anche lì è tutto strutturato ci siamo riusciti ma perché lei ha cambiato un modo di pensare ecco qual è la chiave se ci pensi la produzione industriale è molto simile alla tua no? tu mi hai parlato di un settore lei ha una produzione di macchinari che poi vanno montati questi macchinari costruisce una catena di montaggio che entra il pezzo di marmo ed esce la lastra ci siamo riusciti però Arianna devo dire è stata cioè si è appassionata prima lei al tema e quando ci siamo incontrate la prima volta cinque anni fa mi ha detto Deborah ho capito che non posso più lavorare così